Lui, guaglia a te, ci fai scoprire dalla guardia Ma che dobbiamo fare? Siamo bloccati qui Ragazzi ci troviamo in prigione e dietro questo muro c'è la guardia Cicciopuzzone che ci aspetta, che ci vuole catturare La mia strategia è di fingere, fingere, fingere Perché noi siamo qui in prigione senza un motivo, non abbiamo commesso nessun crimine Ma 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 fingere cosa? Come sapete io e lui siamo davvero due bravi ragazzi Non faremmo del male neanche a un filo d'erba Già, quindi figuratevi, figuratevi Non so se lui non ha rubato qualche caramella Non è vero, non ha rubato niente Non lo so, però per questo è un po' di sbaglio Non si finisce in caccia, quindi non lo so Dobbiamo sicuramente evadere, scappare Perché noi non dobbiamo stare qui, non è il nostro posto No, no, aspetta, aspetta Ma guardate qui, qui dietro Guardate, quella guardia gigantesca Che continua a scorreggiare e fa una puzza da morire Mamma mia, sta per il dovere Vieni, 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 vieni Sento già la puzza, sento già la puzza Ma non andare lì, vieni qua dietro il muro Hai ragione, ho sbagliato il muro Secondo me dobbiamo approfittare di quando lui si gira per scappare Ok, ora, ora Via, via, via Oh no, sta arrivando Sta arrivando, siamo morti, siamo morti Siamo morti, siamo morti Vabbè, l'avete visto? Da fatto, se sei girato e per... Mi stai inseguendo da me Mi stai scappando di qua Oh cavolo dietro di me Oh no 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 Che succede Sofì che hai fatto Mi sto rappicando Mi sono salvato Aspetta arriva un chio Via 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 Dai corri 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 Spiegami No 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 le scale le scale Sono dietro di te Dietro di me adesso c'è la guardia Dove sei? Sono dietro aspetta Ma come sei dietro Aspetta aspetta Brava 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 Corri corri adesso devi fare un zatto Sulla grondaia ma non cadere Perché se cade si è fritta Sì vabbè è finita C'era proprio lui Dove sei? Lui mi ha preso mi ha preso Mi ha portato nel mondo delle puzze Nel mondo delle puzze? Vuoi riprovarci lui? Dai io ti sto guardando Per favore smingati Mi puoi una sigilla dimmi Tu lui però non mi aiuti così Non mi aiuti affatto Siccome tu sei lì Dall'alto Fa il paladino della giustizia Mi guarda e mi giudica Ma in realtà devi capire Che per me è molto complicato Ma che stai dicendo? Vuoi venire adesso Ora devi venire Ora quando lui è davanti le scale Mi sta proprio guardando? Dai brava Ma sali le scale Vedi che è semplice È dietro di me Dietro di me? Non è dietro di te Oh Sicuro? Ok Adesso concentra Devi fare un salto Uno solo Quindi va Ma è dietro di me Che mi dici che non è dietro di me? Mi sono girata Se c'era lui Col tuo facciore puzzolente Si vede che noi ne vediamo due diversi Ma no C'è stato questo piccolo fraintendimento Non ti preoccupare Riprovaci Guarda che mi sono spaventata davvero tantissimo Mi è venuto l'asma Vabbè ma se io intanto vado avanti Che dici? Dico che no Mi devi aspettare Dai Sbrigati Corri Fregatene Tanto non ti può prendere Se tu corri Vai dritto Dritto Sali alle scale Arriva su E ti lanci nella grondaia Nella grondaia lui non può arrivare Dai Ti vedo piccolina Vai 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 Ti prego salta Sì 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 Bravo 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 Non ci posso credere Neanche io ci credo Guarda Adesso devi saltare sulla grondaia Salta sulla grondaia Ok brava Seguimi Seguimi senza cadere Lui è difficilissimo Ok E qui è ancora più difficile Perché quando devi fare un saltello in avanti Ok così Vedi Semplice Ma io non posso Dai ce la puoi fare Per favore Non posso È troppo difficile Io ti dico che se cadi Ti finisci in testa la guardia. E poi quelli sono cavoli tuoi. Che stai facendo? Non lo so. Vai per un piccolo saltello. Abbiamo fatto anni e anni di parkour. Per un piccolo saltello. Brava, brava. Ce l'ho fatta. Ma ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ma era impossibile. Adesso continuiamo da questo percorsetto qua. E c'è un'altra grata che è chiusa. Com'è chiusa? È chiusa. Perché è chiusa questa grata? È il condotto dell'aria. Non si apre. Non succede niente se ci clicco. Mi sono accorta che sotto la grata c'è un tasto che serve per aprirlo. Quel tasto? Esatto. No! Ma siamo due scemi. Cioè noi siamo scappati da ciccio pasticcio. Ma dovevamo prima attivare la grata con quel tasto lì. Ma se adesso ci lanciamo ciccio pasticcio ci ucciderà. Strategia e razionalità. Se vado io ad aprirlo sicuramente non riesco più a tornare su. Perché io non so come sono qua su. Sono qui per un miracolo. Perché io non sono assolutamente brava. Quindi secondo me tu dovresti essere così coraggioso da scendere giù, andare a premere il bottone e poi visto che sei molto veloce e bravo fare di nuovo tutto il percorso per salire su. Io? Sì sì sì. Vuoi che io mi sacrifico per entrambi? Luì. Luì. Eh? Noi siamo finiti in carcere per colpa tua perché tu hai rubato delle caramelle. Ma non è vero! Che non si fa assolutamente tutto e tutto e tutto e tutto e adesso tu mi devi portare via di qui. Dobbiamo andare a riportare le caramelle a chi le hai rubate e tutto finirà. Visto che non voglio rimanere a vita qua su questa grondaia bloccato con quello che continua a scorreggiare. Preferisco sacrificarmi e provare a premere quel tasto. Ma per farlo devo aspettare il momento giusto. Il momento in cui lui non guarda. Che sarebbe... Ora 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 ora! Faglio! 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 Ma che cavolo? Ma mi ha beccato subito! Ok ho premuto il tasto! Non mi prendi! Non mi prendi! Ma non si è aperta nessuna grata qui! Non mi prendi! Non si è aperto nulla! Non si è aperto nulla! No si è aperto! Si è aperto però poi devi premerlo forse anche tu! Capito? Io l'ho aperta per me ma adesso devi premerlo! Non ci credo! Non ci credo! E invece ci devi credere! Ma per me sarà impossibile di fare questo percorso! E non so questo è il bello! Proviamo! Arriva qui vediamo se a te si è aperto! No sono caduta! Sono caduta e spinta! Cavolo cavolo sono fritto! Guarda vado anch'io in giù così per tempo mi porto avanti! Vai! Lanciati e premi subito il tasto! Ma quello continua a fare cose schifose! Dai corri corri! Le puzze le puzze le puzze fortissime! Ok ok brava brava! Hai premuto? C'era lui! L'hai premuto comunque! Non l'ho premuto perché c'era lui! Ah! Sono caduta anch'io! Dove siamo veramente due negati! Due carciofilmi chiuderei di nuovo con galera! Mamma mia questo qui proprio pazzo! Ah lei è pazzo! Lei è pazzo! Ma lei è bruttissimo! Dai ti prego! Ti prego ce la vuoi fare! Non cadere più! Premi il tasto! Devo aspettare che sei un'unità! Sì vabbè almeno premi il tasto poi fatti uccidere! Però almeno premi il tasto! Così intanto apri la grata! Aspetta! Ma aspetta cosa? Aspetta risposta! Ma fregatene tanto ti inseguirà lo stesso! Vai 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 vai! Ti prego premi 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 premi! Fai così tic 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 tic! L'hai premuto? L'ho premuto l'ho premuto l'ho premuto! Ok adesso è diventato rosso il tasto o è sempre verde? Sì è diventato rosso! Benissimo! Ora corri! Perché lui non ti può prendere! Basta che corri! Ma come non ti può prendere? Mi prende lui mi prende! No tu vai più veloce di lui! Brava! Continua così! Dritto dritto! Non ti fermare! Arriva là e saldi sulla grata! Dritto dritto per dritto! Dritto per dritto! Vai! Sì ma se fai i micro salti tipo un pulcino è ovvio che non ce la farei mai! Guarda io intanto vado avanti! Tu sbrigati a fare quel pezzettino! Ce l'ho fatta lui ce l'ho fatta! Ce l'hai fatta? Sì! Sono qui! Mi hai fatto spaventare non mi aspettavo di vederti dietro di me! E ciccio pasticcio è rimasto lì e soltanto un brutto ricordo ormai! Ora siamo di nuovo davanti a un bivio! O ci tuffiamo di qui senza sapere dove finiamo oppure torniamo indietro! Che dici? Ci tuffiamo! Va bene! O la vola spacca! Cavolonga! Cosa è questo posto? Siamo finiti in bagno! Siamo in bagno! Questi condotti dell'aria sono finiti nel bagno ma che non è il bagno della prigione! Questi sono i bagni delle guardie! Cavolo se arriva ciccio pasticcio... No! Non ci voglio neanche pensare che lui vada in bagno! Chissà cosa dovrebbe fare! Mamma mia che schifo! Mamma mia che schifo! Che schifo! Allora qui c'è una porta e effettivamente è chiusa perché altrimenti sarebbe stato troppo semplice uscire dalla porta! Ci sarà sicuramente un altro passaggio! Ci possiamo nascondere dentro un gabinetto! Eh? Guarda guarda guarda! Che schifo! Ma lui vieni qua vieni qua! Guarda! C'è una specie di tunnel! Qualcuno l'ha scavato! Qualcuno l'ha scavato perché sicuramente prima ci sarà andato in bagno ciccio pasticcio e quindi avranno dovuto scavare e rompere tutto! Avranno dovuto proprio togliere il gabinetto! Hanno dovuto togliere! Guarda ma è profondissimo questo tunnel che facciamo tutti e ci lanciamo! Sì secondo me sarà l'unica via d'uscita! Uno! Due, tre! Siamo nella fognatura! Che schifo! C'è anche la lava! Fermi qua! Fermi tutti! L'avventura di oggi si conclude qui! Siamo arrivati lontanissimi nel gioco! E ora fateci sapere se volete che continuiamo questa storia! Noi ci siamo divertiti un sacco e adesso ci vediamo domani con una nuovissima avventura! Ciao! Ciao!